Ciao ragazzi, oggi suoneremo Stembe Me con questa band. Vi presento Daniele, Fabio che già lo conoscete e Michele. Spero che il video vi piaccia e alla fine ricordatevi di mettere like. E dateci i soldi soprattutto. Ok, quindi vado una fuori? Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.